In un periodo in cui il costo della vita continua a salire, una buona notizia arriva per 7.524 famiglie della provincia di Teramo, che vedranno accreditato il bonus idrico direttamente sulla prossima bolletta dell'acqua. Questo rimborso destinato agli utenti diretti serviti dalla Ruzo Reti copre gli anni 2021 e 2022 e sarà erogato in un'unica soluzione, mentre per l'anno in corso il bonus sarà distribuito in quote e proporzionali nelle bollette future. Ma la Ruzo ha anche annunciato che sono state emesse oltre 10.000 note credito degli anni 2021, 2022 e 2023 a favore degli utenti indiretti, ovvero coloro che hanno diritto al bonus ma non sono intestatari della fornitura. Questo bonus idrico riguarderà circa 17.000 persone, quindi insomma è qualcosa di veramente molto importante. 7.500 lo avranno in maniera diretta sulla bolletta, gli altri invece lo riceveranno in maniera indiretta attraverso dei rimborsi che otterranno. E' molto importante specificare che noi siamo giunti con un po' di ritardo rispetto alla media nazionale non per causa della Ruzo Reti ma perché ci doveva aggiungere un'autorizzazione da parte degli organi preposti che è arrivata soltanto 20 giorni fa. Non appena siamo stati autorizzati abbiamo immediatamente posto in essere tutte le misure per favorire questo bonus nella bollettazione seguente e questo sta avvenendo. Le condizioni per poter ottenere questo bonus sono il fatto di avere un ISEE di 9.500 euro o una famiglia con almeno 4 figli e un ISEE di 20.000 euro e è anche importantissimo sottolineare ai cittadini che la richiesta non va assolutamente fatta alla Ruzo Reti ma viene sostanzialmente addebitato in automatico nel momento in cui il cittadino si reca presso un CAF e nell'ipotesi in cui rientri in questa ipotesi richieda l'ISEE. Dal punto di vista pratico quale sarà il contributo che verrà erogato in bolletta? Dal punto di vista pratico diciamo che dipende un po' dalle tariffe che chiaramente variano ogni anno. Comunque sostanzialmente viene erogato un contributo, quindi un po' un bonus, uno sconto diciamo, di 18,25 metri cubi annui a componente del nucleo familiare che poi vengono chiaramente moltiplicati per i prezzi, per le tariffe applicate al servizio di acquedotto, di fognatura e di depurazione. Inoltre è stata annunciata anche la prima edizione degli Open Day Ruzo Reti, l'iniziativa organizzata dalla società acquedottistica Teramana per il prossimo 22 marzo in occasione della giornata mondiale dell'acqua. Abbiamo deciso di aprire i nostri impianti e le nostre strutture ai cittadini affinché i cittadini che sono i reali proprietari di questi impianti e di queste strutture possono conoscerlo e capire anche i meccanismi che sono dietro l'acqua, l'acqua potabile, la depurazione e anche dietro la bolletta.